ciao a tutti questa sera parliamo di nuovo in due parti di arco tradizionale di tiro istintivo di mira istintiva e di mira un pochettino diciamo più pragmatica lo dividiamo in due parti nella prima parte di questa sera parliamo di quello che è il tiro istintivo di qual è la sua definizione o meno anche secondo me di cosa si fa per tirare bene con l'arco tradizionale in modo del tutto istintivo del tutto puro e questa sarà la prima parte nella seconda parte invece vedremo un pochino di più l'arco istintivo sportivo come organizzarci per avere un metodo per effettivamente poi avere una performance sportiva e non solo diciamo filosofica come vedremo in in questa prima parte intanto questa sera vedremo il tiro istintivo nel in molte sfaccettature non in tutte ma perlomeno quelle che mi hanno più attratto una una delle di queste sfaccettature è quella il mio amico compianto botta giovenale il mio amico giovenale mi ha sempre mi ha sempre detto il viaggio della freccia e magico e lui cosa diceva diceva che affascina sempre l'arcere perché prolunga e sottolina l'emozione che lo sguardo ha trasportato nell'impito di lui stesso esso costruisce l'unione tra bersaglio e arcere e questa è una frase molto intima molto molto filosofica di quello che è il tiro con l'arco ma lo vedremo lo vedremo più avanti vedremo che implicazioni porterà poi questa questa bellissima questa bellissima frase e questa bellissima definizione del di questo tipo di tiro con l'arco intanto è da considerare assolutamente che nell'approccio con il tiro con l'arco tradizionale che sia l'on ball arco istintivo e l'arco istintivo lo dico ancora una volta è la definizione che si ha in fit arco per una tipologia di archi anche con questa tipologia che prevede una performance altra stiva occorre poi fare i conti con una rappresentazione intima legata per lo più ad aspetti filosofici e anche introspettivi come abbiamo visto ed è tenendo per l'appunto conto che dobbiamo sviluppare poi un buon metodo per fare centro lo vedremo naturalmente e questo è ovvio ahimè quante volte l'ho detto che nessun metodo sarà efficace intanto che non si sarà acquisita una buona tecnica di tiro perché per quanto noi siamo filosofi col tiro con l'arco ma assolutamente anche per una nostra sicurezza e una nostra per non farsi male per l'appunto la tecnica di tiro è importantissima ed è quella consolidata ormai dall'arceria moderna la stessa identica che sia nell'arceria di ogni di ogni divisione di ogni stile intanto mettiamo subito in conto che l'arco istintivo e l'arco lombò hanno due metodi di tiro molto sfumati tra di loro allora il primo metodo è un po il metodo puro di tiro con l'arco tradizionale che si utilizzano per l'appunto solamente la facoltà di coordinazione fra la nostra mano che tiene l'arco e il nostro cervello un talento che io sono perfettamente convinto che abbiano tutti gli uomini da che sono nati e da che esistono e questa facoltà di coordinazione è usata in molti sport in molti sport che conosciamo come i calciatori che devono fare un lungo passaggio o i cestisti che devono fare canestro o i battitori di baseball che devono prendere la palla che non arriva a bella dritta arriva con una parabola e la devono la devono prendere al volo e questo è tutto una questione per l'appunto di chiamiamolo tiro istintivo chiamiamolo intuito chiamiamo come vogliamo ma è una cosa che comunque il nostro cervello ha già a disposizione dobbiamo solo cercare di tirarlo fuori allo stesso modo si comporta un arciere che tira con l'arco istintivo per l'appunto guardando il bersaglio da colpire e tendendo e rilasciando l'arco senza mirare in modo conscio questo diciamo è quello che effettivamente fa il tiratore istintivo in modo puro tutti possiamo essere in grado di operare allo stesso modo come tutti siamo capaci con poco allenamento di lanciare un sasso per colpire una pianta o di lanciare una palla ad un amico come abbiamo visto per gli sport che lo prevedono naturalmente riuscire a tirare bene con l'arco in modo istintivo richiede tempo allenamento ed edizione non viene non basta pensare di poterlo fare ma d'altronde come tutto nella vita non ci vuole passione ed edizione e tanto tanto allenamento d'altra parte d'altra parte ve lo assicuro riuscire nel tiro istintivo è uno dei maggiori piaceri che un arciere possa possa avere perché effettivamente è tutto l'intimo di se stesso senza una vera e propria meccanismo quindi è solo una questione veramente di mente corpo e cervello ma cosa fare esattamente si tratta di insegnare al proprio cervello al proprio corpo i propri occhi di lavorare in modo coordinato per raggiungere il risultato che vogliamo cioè colpire cioè colpire quello che stiamo guardando e questo è il nostro lo scopo del tiratore istintivo ma attenzione diamogli una definizione cosa significa alla fine tiro istintivo e non arco istintivo ma proprio il tiro il tiro istintivo che abbiamo visto finora una definizione ce l'abbiamo tirare in modo istintivo è un processo deliberato nel quale attraverso la ripetizione delle operazioni il nostro corpo impara come sullevare e puntare l'arco per colpire il punto scelto solo fissando il punto che si vuole colpire e concentrando su di esso la propria attenzione il cervello ci farà effettuare il tiro in modo esatto e perfetto ma forse anche qualcosa di più qualcosa perché perché qui dico questo perché si è sempre parlato diciamo con il tiro istintivo nella caccia ma non è ma non è proprio così il tiro istintivo può essere anche un mezzo un mezzo per raggiungere una facoltà di proiettare il proprio il proprio intimo verso il bersaglio e questa è un'azione veramente molto meditativa quindi il tiro con l'arco può essere veramente un mezzo di grande meditazione verso il verso di noi 20 verso il il centro di noi stessi quindi non è solo un fatto di prendere il bersaglio e abbattere un animale o di fare centro in un bersaglio effettivamente può essere il tiro istintivo anche qualcosa di più intimo veramente molto più intimo ad esempio tirare istintivamente anche proiettare il proprio intenzione verso il bersaglio e come si dice nel tiro di questo tipo si completa il tiro ancora prima di aver alzato l'alcolo perché l'intimo di noi stessi il cervello veramente percepisce già la proiezione la proiezione dell'intenzione del tiro e poi e poi un ultimo ci permette di essere centrati con la natura che ci circonda proprio per questo mezzo di meditazione che veramente l'arco può dare spero di essere di essere stato di essere stato chiaro ma effettivamente il tiro con l'arco è anche e anche questo come fare ad allenarci a no ad allenarci a capire un pochettino di più come funziona il tiro istintivo vabbè intanto possiamo provare a fissare un oggetto attraverso la stanza o fuori dalla finestra lo osserviamo poi proviamo a chiudere gli occhi quindi prima osserviamo un punto fuori dalla finestra ovviamente che non si muove poi proviamo a chiudere gli occhi e puntiamo il dito indice col braccio teso verso quel punto però col braccio teso verso quel punto e poi riapriamo gli occhi e potremo constatare che il dito è indirizzato molto vicino al punto che avevamo fissato in precedenza beh questo ci dimostra che già abbiamo l'abilità di tirare in modo istintivo occorre solo del tempo perché si riesca ad essere in grado di eseguire la stessa cosa con l'arco e le frecce la freccia è la proiezione del dito indice che sta indicando qualcosa una cosa che mi ha sempre affascinato è stato Wardil io ho letto alcuni libri alcune traduzioni molto interessanti fatte da arcieri italiani e veramente mi ha un po' dato quella spinta su come lui la pensava per quanto riguarda il tiro istintivo è uno dei migliori tiratori sui bersagli mobili è stato per l'appunto Wardil che è degli anni 50 insomma a cavallo a cavallo degli anni 40 30 40 e 50 nel suo libro hunting the hard way ci insegna il suo metodo teneva gli occhi fissi sul punto che voleva colpire mentre osservava la punta della freccia con la visione periferica che lui chiama seconda visione o split vision come effettivamente sta scritto in inglese in modo da poter valutare le correzioni da fare in base alla distanza del bersaglio Wardil diceva che il modo più efficace per colpire un bersaglio anche in movimento quindi fissare sì il centro da colpire ma avere la percezione di dove è posizionata la punta della freccia Wardil sempre lui scrive nella sua enciclopedia del cacciatore che è del 1947 che un principiante dovrebbe cominciare a tirare in modo puramente istintivo guardando solo il punto da colpire io sono d'accordo su questo solo dopo aver imparato a tirare così può cominciare a guardare la punta della freccia con la visione periferica e da valutare la relazione tra punta della freccia e bersaglio in base alla distanza ecco questo è molto importante quello che ci dice Wardil la distanza è una variabile è una variabile che dobbiamo prendere in considerazione io non capisco non capisco capisco effettivamente se lo vediamo dal punto di vista meditativo ma se lo vediamo dal punto di vista di colpire effettivamente il bersaglio noi dobbiamo qualsiasi tiro anche il tiro istintivo più puro a mio modestissimo parere la variabile distanza deve essere deve far parte del mio bagaglio quindi io devo in qualche modo prima di tutto capire a che distanza è il bersaglio perché questa è un'informazione che il mio cervello dovrà avere anche se tiro nel tiro più puro e istintivo dopodiché il metodo guardil è un metodo interessantissimo perché in base alla distanza che anche solo col colpo d'occhio mi è venuto in mente ma anche in modo inconscio anche in modo subconscio io percepisco la distanza la visione periferica di questa punta completamente sfocata io ho a fuoco solo il centro da colpire il mio subconscio ne terrà conto e fare in modo istintivamente ma proprio istintivamente terrà conto dove è posizionata la punta della freccia in base alla distanza e io riuscirò a fare centro con molta ma molta più facilità questo è assolutamente istintivo è assolutamente puro quindi dove è posizionata la punta della freccia e a che distanza è posizionato il bersaglio fa parte delle variabili che ogni tiratore deve mettere in conto sia pure in modo inconscio anche non in modo conscio beh in questo modo Howard Hill aveva anticipato la tecnica dell'arceria moderna prima consolidare una buona e ripetibile forma di tiro poi in seguito attivare per l'appunto dei metodi e delle strategie di mira in foto vediamo il mio amico Alfredo è lo stesso Howard Hill che ci consiglia un semplice allenamento per vedere la freccia con la visione periferica mantenendo la concentrazione e la visione effettiva sul bersaglio è lui stesso che ci indica come farlo correttamente come per l'appunto allenarci che questo non preclude mi raccomando no non preclude assolutamente qual è l'approccio alla tecnica quindi all'allenamento della tecnica vediamo qui Luana Bassi una tiratrice istintiva veramente istintiva perché adotta il metodo di Howard Hill come abbia una tecnica straordinaria veramente un allineamento perfetto e questo è indispensabile per poi effettuare un tiro anche puramente istintivo beh, cosa ci dice Howard Hill? cosa ci consiglia? beh, per prima cosa dovete imparare a guardare il punto da colpire quindi scegliete un piccolo oggetto guardatelo e concentrate l'attenzione solo su quello fino a che quella è l'unica cosa che vedete quindi concentriamoci su un piccolo oggetto e alleniamoci a vederle alla fine a vedere, a concentrarci solo su quello e a vedere su quello alleniamoci in questo modo ogni giorno se si può fare anche in casa deve diventare un'abitudine efficacemente ridicata in noi nell'arciera imparate a fare questo automaticamente anche con un oggetto che si muove ad esempio quando guardate la televisione ma questo non è che lo dovete fare continuamente però appena potete fate questo esercizio quindi fissate un punto ma dovete avere anche qualcos'altro che si muove in modo periferico posso affermare? beh, posso affermare vedendo, guardando tanti arcieri mi sono accorto che quando si tratta guardate, quando si tratta di tirare a distanze note o comunque a distanze facilmente stimabili chi usa il gap shooting vince le gare chi invece chi invece tira su bersanti immobili o su distanze difficilmente stimabili è il tiratore istintivo che produce sempre le stesse identiche cose ma non in modo conscio in modo inconscio con molto ma molto ma molto ma molto allenamento e questo assolutamente è indiscutibile non si può comunque vedremo vedremo nella seconda parte adesso facciamo un piccolo spoiler sulla seconda parte vedremo nella seconda parte come effettivamente utilizzare il gap shooting sì come dice Overdeal ma con un metodo diciamo un pochino più alla portata di tutti per addentrarci in questo straordinario mondo senza senza perdere perdere troppo tempo e senza avere libraggi troppo elevati che effettivamente poi alla fine scoraggiano la maggior parte degli arcieri quindi mettendo insieme la capacità di concentrare la visione sul punto da colpire e l'avere acquisito una buona tecnica farà di voi un tiratore di sud questo è molto importante no? la capacità di concentrare la visione sul punto da colpire e la buona tecnica di tiro la capacità di concentrarsi sul punto da colpire però attenzione concentriamoci sul punto da colpire ma dobbiamo avere bene in mente come d'altronde ci dice Overdeal dobbiamo bene avere in mente dove è posizionata alla punta della freccia seppur in modo inconscio sfocato e anche in testa seppur in modo inconscio se vuole anche anche non inconscio a che distanza è posizionato il bersaglio perché questo farà sì che siano informazioni troppo importanti che il nostro cervello dovrà dovrà avere per appunto muovere quella mano quella mano dell'arco avanti, su e giù per trovare la giusta parabola per colpire il bersaglio e questo per avere una performance perché poi alla fine di tutto il nostro tiro vedremo è un tiro che prevede una performance sportiva e non meditativa anche se con tutta la dignità e l'importanza che questo che questo deve naturalmente avere ok abbiamo abbiamo finito questa prima parte io spero di essere stato abbastanza chiaro abbiamo visto come effettivamente il tiro il tiro istintivo sia così importante sia così radicato sia così filosofico sia così intimo però sia così un mezzo straordinario di meditativo veramente è una cosa straordinaria un'altra cosa e lo vedremo nella seconda parte un'altra cosa è avere una grande performance sportiva se facciamo parte di una federazione dove la performance sportiva è ovviamente perché è una federazione sportiva nazionale è essenziale beh dobbiamo agire in un modo un pochettino diverso e avere delle strategie sicure avere dei metodi certi per poter non dico essere certi di fare centro ma avere grandi possibilità di poterlo fare e lo vediamo domani sera grazie per stasera per la paziente e l'attenzione che mi avete dato qualsiasi domanda sono pronto a rispondere ma aspettiamo domani sera per vedere la seconda parte ciao a tutti a domani a domani Grazie per la visione!